Ci tengo a dirlo, ho ricevuto la telefonata del Presidente Mattarella Se non avessi visto lo 06 e la persona che mi ha chiamato dicendo che mi avrebbe passato il Presidente Mattarella Non ci avrei creduto, è una piaconda bellissima, Dio solo che ha seguito il Festival ieri sera, si è complimentato e ha ringraziato per l'omaggio che lo ha commosso Ovviamente ho detto anche la sua telefonata che mi commuove il Presidente, è stato un omaggio semplice come nel nostro stile ma fatto veramente con il cuore E poi ha avuto piacere a ricordare in effetti quella serata, per lui bellissima, all'avuso da domani ovviamente perché ha assistito a una cosa Che poi purtroppo non si è neanche più verificata e quindi lui essendo un grande bambino ha gradito veramente questo nostro omaggio Io lo ringrazio di cuore, grande Presidente e quindi grazie